Noi oggi presentiamo un corso di formazione specialistico in pasticceria, ma la cosa fondamentale è che i ragazzi alla fine del percorso triennale e quindi dopo l'acquisizione di competenze specifiche e di eccellenza nel settore pasticceria, potranno conseguire con un esame finale una nuova qualifica regionale, la qualifica di operatore di pasticceria, che è un titolo legalmente riconosciuto su tutto il territorio nazionale. E questa è la grande novità, perché in seguito ad una nostra richiesta fondata su una accurata analisi dei bisogni occupazionali del territorio, la Regione Abruzzo quest'anno ha introdotto nel repertorio delle qualifiche dei profili professionali della Regione anche la qualifica di pasticcere. Quindi noi formeremo pasticceri per le attività di ristorazione, per i laboratori di pasticceria, ma formeremo anche dei pasticceri che potranno avviare delle attività imprenditoriali. La nostra progettualità è scaturita da una forte alleanza educativa e formativa, ma anche strategica, con la Compait, con la Confederazione Pasticceri, che rappresenta sicuramente un'avanguardia di competenze e di professionalità nel settore. Da qui i ragazzi potranno iniziare immediatamente sul mondo del lavoro, sia come dipendenti dentro le aziende di pasticceria, ai nostri associate che sono leader a livello nazionale e sia come imprenditori. La grande novità è che la Confederazione dà a questi neoprofessionisti la possibilità di aprire un'attività con 12.000 euro di contributo a fondo perduto, tutti i fondi della Confederazione.